Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Io sarò il mio primo indagato. Scusate, non voglio interrompere niente. Sono un coglione, sono un ritardato. Non fate caso a quello che dico io, ragazzi, che molto spesso dico delle puttanate. E mettetemelo nel culo, dai, che cazzo ve ne frega. Me lo sbattete bene nel culo. Mi prendete la ciolla e mi tagliate anche quella. Non fate caso a quello che dite, perché sembra un coglione. Tuati? A me non mi piace, frigo, che cosa. Ah, sì, c'è stato. Almeno ti piace la pittista che ha preparato Mariana. E giuro, e prendo, frate, non ti dico che glie faccio. Quindi dimmi subito. Mi stai dicendo che non mi dirai cosa farai a me o alle mie figlie. Non ho capito bene quello che vuoi comunicarmi. Frate, non capisco perché continui a tenere questo tono molto tranquillo mentre io ti sto minacciando. Sto dicendo che ti voglio tagliare la gola, la carotide. Voglio prendere una delle tue due figlie, porco Dio, la voglio prendere e accoltellare. Hai capito questo o no? Lo devo spostare di qua. Lo sposto un attimo dall'altra parte. E' qui, qua, qua, e dove abiteresti se su qui c'è lì? Texturizing shears will help for a smooth transition. Snap 101 and move up half an inch within. With the lever open, break the line within. Now that's solid. Close up the lever and erase the bass line. Detail line up and snip off a bit to add some texture. Now I'm feeling very demure. Let's do a mid-taper. Start with a trimmer and make a bass line. Trim off the hair below. All about to stop. Frate, ma è caduto malissimo. È cascato di coso, frate. Ma è orribile, bro. È scrittata la prima partina. Oddio, ma mi sto fottendo dei ragazzetti. No, vabbè. Ma che sto a fa? Mi vedi? Mi firo, mi firo, mi firo, mi firo, mi vedi, mi vedi? Mi stai vedendo, mi stai vedendo? Mi vedi, mi vedi, mi vedi? Ma questo è una comunistoide di merda di Bologna, porco Dio. Ma perché non c'è un bel baffetto, la tizia? Ma frate, smette ai tre di notte Max Pezzali e si mette a cantà dentro casa. E come ogni bolognese de merda che va all'università qua, città del cazzo, ti dice no, io? Perché dovrei accendere il riscaldamento? Me riscaldo col vino. Li mortacci vostre e di chi non voti ci vedevano bombardà. Dato, dam, l'eulo, ma... E non sbaglio quello che hai è il grassofobico cut. Corretto? Io non so come fatelo. Non penso che è quello in te. Ma pare chill. Timing. Ammazza, cinque, cinque, cosi, etiopi, 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 cinque... Big huge cock, big huge cock, così, ok. Riuscire a un abominio, già lo so. No, no, viva i Pokémon, viva i... Episodon. Ah, qui inizia, viva, viva i... Invece i Pokémon che si può iscrivere? I... Cazzo, mon, sai, stupidissima. Viva i cazzo, mon. E... No, vabbè, questo lo scappi. I 3-mon, vabbè. Sì, sì, è schifo. No, ma non devi per forza usare le... Ma che linea hai provato a mantenere? Ma te li sei tagliati solo da lato. A linea del limite da 0-2 con Jaime e Master Ice. E dietro come stanno? No, Marzò, ma io intendevo solo fatte vedere i lati. No, ma... Ok, bro, vabbè. Tu hai problemi, ci credo anche se li neghi, sei come se non ci fossi, bro. Perché sei un bro, un bro, vero? E bro, mi credi quando dico che sei un bro? Che cazzo di freestyle è? Ma che cazzo di freestyle è? Ma non d'ascolta che bro fa rima con bro. Scusa. Ah, bro, scusa, bro. Io lo faccio meglio a voce, bro. Errura, grazie per i sub. Cosciuto me lo? E da... Non ti trovavo. Sei grande. No, mi pannano! Mi pannano di te! Mi pannano di te! Ma zanzo me! Ma ti pannano! No! Solo se dici qualcosa di strano, zanzo me! Ok, c'è, c'è, c'è. Ho paura, c'è, c'è. No, c'è, c'è, c'è. Mi mancano Giulio e Giulio. La nuova barra di caricamento download per l'aggiornamento iOS. Allora, boys, io vi dico solo la roba. King, un saluto per me ed il Gimbro Chiocciola Leonvski. Lesgoski, lesgoski, lesgoski. Ecco, se non mettevi tre lesgoski ti avrei anche salutato. Regà! Ciao Gaimmo, ho messo un video sul trapianto in Turchia su YouTube. L'ho cucinati. Voi non lo potevi vedere perché ho le cuffie. Ma l'ho cucinati.